Ora c'erano, ci sono negozi, vedete bellissimi, qui c'è la sede dell'Ampi, qui c'è un'ottica, l'ottica Leoni, andiamo a vedere ancora, anzi dovrei passare alla diretta, sapete che a me il dialogo intelligente, ecco questo, 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 questo lo facciamo, qui vale la pena entrare, vediamo come va. Buongiorno, chiedo scusa, non sono un acquirente ma un giornalista di professione, ovunque chiedo una cortesia, scusi che mi è partito il f...